L'emergenza degli incendi che stanno devastando le regioni italiane, tra cui la Sicilia, è uno dei temi chiave su cui la Ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha puntato l'attenzione durante la tradizionale riunione di ferragosto del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'incontro, presieduto dalla titolare del Viminale, si è tenuto a Palermo in prefettura, alla presenza dei vertici delle forze dell'Ordine, del Capo della Protezione Civile Curcio e di altri rappresentanti delle istituzioni. Dal dossier del Viminale emerge che l'isola è una delle regioni su cui si è concentrato il grosso degli oltre 100.000 interventi dei Vigili del Fuoco per spegnere i roghi delle ultime settimane. Occhi puntati anche sugli sbarchi dei migranti a Lampedusa e sulle altre coste del paese. Da inizio anno più di 49.000 le persone approdate, il 128% in più rispetto all'anno precedente. Sul terreno della lotta al crimine organizzato, incremento del 21% delle interdittive antimafia, con la Sicilia terza per numero di provvedimenti adottati con 256. Nel confronto, focus particolare anche sui controlli per il rispetto dell'enorme anticontagio. Sentiamo ora le parole del Ministro Lamorgese che poco fa ha parlato sull'emergenza migranti. Abbiamo parlato dei flussi migratori, abbiamo detto che certamente i numeri sono aumentati perché siamo a più di 32.000 arrivi. Però in contemporanea noi abbiamo proseguito, nonostante che nella prima fase del 2021 si siano bloccati i rimpatri a causa Covid, abbiamo proseguito con i rimpatri. Tant'è che ad oggi abbiamo già circa 2.090 rimpatri, considerati che soltanto circa 1.000 sono per la Tunisia.